Musica Musica Amici di 8 Channel ben ritrovati dallo stadio Partenio Lombardi nuovo appuntamento con Nella Tana coi lupi il format dedicato alle interviste in esclusiva ai calciatori e ai tesserati dell'US Avellino siamo in Tribuna VIP ringrazio innanzitutto Umberto Coppola il custode del Partenio Lombardi per averci permesso di essere qui Tribuna VIP con un VIP bianco verde Luigi Gigi Castaldo ti diamo il benvenuto ciao Gigi Buonasera Allora Gigi iniziamo subito aprendo la tua carta d'identità facciamo finta proprio di leggere Luigi Castaldo nato a Giuliano in Campania il 2 maggio del 1982 ahimè soprattutto per quando facciamo le interviste in zona mista alto un metro e 84 cm segni particolari sei fortissimo io volevo chiederti qual è il tuo primo ricordo legato ad un pallone e quando hai capito che saresti diventato un calciatore professionista? ma il primo ricordo va da quando ero bambino con gli amici giocavamo per strada era il nostro campetto poi all'età di 15 anni ho fatto il mio primo anno con la scuola calcio di Villaricca per poi passare alla Puteolana e da lì ho capito che potevo fare qualcosina di importante Nel 2000 lo hai detto sei alla Puteolana gennaio 2001 passi all'Ancona in Serie B e diventi mister miliardo Sì fui acquistato dall'Ancona che all'epoca militava in Serie B io facevo il mio primo anno da professionista con la Puteolana con l'allenatore Zio Lino Capuano fui acquistato per un miliardo e duecento milioni delle vecchie live Bella responsabilità no? Assolutamente sì anche perché ero giovanissimo avevo appena 17 anni e fui acquistato dall'Ancona feci un quadriennale infatti il mio primo esordio in B è stato proprio nel 2001 Da lì il passaggio al Benevento un'altra parentesi con la Puteolana e poi la Juve Stabbia con tre stagioni da protagonista il tuo ricordo dell'esperienza a Castellamare di Stabbia Ma bella ero giovane ero molto giovane era il mio primo anno che militavo in una squadra di interregionale vincimmo subito il campionato mi sono subito trovato bene fui accolto benissimo dalla piazza di Castellamare quindi sicuramente devo tanto alla città e anche alla società E a proposito di Juve Stabbia che hai salutato nell'estate del 2007 in realtà l'avevi già lasciata nel luglio del 2006 per giocarti la tua grande chance in Serie A con la maglia del Siena poi dopo sei giorni alla vigilia della partenza per il ritiro sali su un pullman e torni a casa è stata davvero solo la nostalgia a determinare questa tua decisione e soprattutto dimmi la verità se potessi tornare indietro riprenderesti la stessa scelta Ma rifarei tutte le scelte che poi ho fatto non rimpiango assolutamente niente sì c'è stata un po' di nostalgia ma anche a quell'epoca si parlava di un possibile prestito a Foggia che militava in Serie C e mi rifiutai a priori di questa cosa però ci sono state poi varie vicissitudini che hanno fatto sì che rompesse il contratto e tornassi sui miei passi La Juve è stabile comunque lasciata poco dopo per approdare al Benevento del presidente Vigorito Vigorito tre stagioni da protagonista anche lì con una promozione in Serie C1 accarezzando il sogno della Serie B con l'amara playoff persa contro il Crotone cosa vi è mancato per tagliare il traguardo della Serie B che poi il Benevento ha conquistato dopo tanti anni di sofferenza, fatica e di lotta al vertice compiendo poi il doppio salto fino alla Serie A credo che è mancato un po' di fortuna perché ricordo ancora quella finale pareggiamo 1-1 al Crotone e in casa abbiamo giocato veramente bene abbiamo preso un unico tiro in porta e ci hanno fatto gol poi ho preso io un palo e poi c'è stato un assedio che anche per fortuna o per sfortuna ha fatto sì che il Benevento rimanesse in Serie C peccato perché avevamo tutto per vincere, società e tutto però poi sappiamo tutti com'è andata Carmelo Imbriani, per parlare del Benevento non si può che parlare di Carmelo Imbriani il tuo ricordo immagino che come tutti gli sportivi sanniti e non solo lo porti nel cuore ma non lo ricordo con tanto piacere ancora oggi ne parlo in famiglia con mia moglie eravamo talmente amici che ci vediamo spesso anche fuori dal campo io lo ricordo come uomo e ti posso dire che era un grande uomo un esempio per tutti sia per i giovani che non veramente è stata un'amazzata tra virgolette però purtroppo queste cose succedono però lo voglio ricordare con tanto piacere perché lui fuori dal campo era un ragazzo semplice e a disposizione di tutto hai un ricordo in particolare che ti lega a lui? ma ci si sono scritti dei messaggi soprattutto quando lui stava male ce l'ho ancora conservati perché capita di rileggerli però purtroppo è una cosa che ha fatto veramente male a tutti specialmente a me perché comunque avevamo un bel rapporto io sia con la moglie c'era veramente tanta amicizia fuori dal campo ed eri proprio un calciatore del Benevento quando il 12 gennaio del 2008 era un sabato di ritorno dalla trasferta di Etessa dove si era giocata a Val di Sangro Benevento perdesti il controllo della tua Mercedes Coupé andassi a sbattere contro dei pali dell'illuminazione pubblica auto distrutta ti presto ai primi soccorsi il tuo compagno di squadra David Masciantonio corsa all'ospedale Rummo dove venissi sottoposto a un intervento chirurgico per la stabilizzazione della cervicale se ripensi a quell'episodio immagino divengano i brividi sì assolutamente sì perché torniamo da una trasferta e successe questo incidente fortunato perché poteva andare veramente peggio però ancora oggi ringrazio il presidente Oreste Vigorito perché mi è stato vicino in tutti i momenti dall'operazione e dall'intervento ai sei mesi che sono stato fuori dal campo quindi lo ringrazierò sempre per il supporto che mi ha dato sia personale ma anche e soprattutto alla mia famiglia un'esperienza brutta però anche positiva tra virgolette perché da lì in poi ci ho messo più cattiveria nel tornare e mi sentivo di dover dare qualcosa a qualcuno quindi sono stato sfortunato però da lì in poi ho avuto grandi successi li ricordi i messaggi di Juve Stabia e Avellino dopo quell'incidente? guarda caso il tuo passato e poi quello che sarebbe stato il tuo futuro in quelle note per augurarti una pronta ripresa sì 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 ho ricevuto tantissimi messaggi infatti ho avuto tanto piacere ripeto ma sia io che la mia famiglia ho avuto messaggi di stima da parte di tutti e quella è la cosa che mi ha fatto più piacere tornando alle cose più liete prosegui il tuo tour campano indossando la maglia della Nocerina una promozione in Serie B storica e poi una mara retrocessione sì per il primo anno vincimmo subito il campionato poi sappiamo tutti come è andata in Serie B sia retrocessi alla penultima giornata sicuramente si poteva fare qualcosa in più perché abbiamo fatto una rincorsa splendida abbiamo anche una grande società e anche una grande tifoseria peccato poi che nel passare degli anni la Nocerina sia un po' persa come società e come squadra sicuramente meritano categorie superiori e non sicuramente l'eccellenza Castellammare di Stappia Benevento e Nocera è corretto dire che ti sei lasciato un po' male con tutte e tre le piazze e soprattutto perché? perché tu sei uno che dà tutto per le maglie che indossa ma è correttissimo mi sono lasciato male per varie cose per bugie che si sono state dette per incomprensioni io sono andato via da Castellammare sono andato a Nocera e si è stato detto che avevo rifiutato di ritornare a Castellammare quando poi assolutamente non c'è stata nessuna trattativa prima di Nocera l'unica squadra che mi voleva a tutti i costi era la Nocerina e ho dovuto accettare la Nocerina invece si è detto che Castaldo avesse rifiutato Castellammare Benevento sappiamo l'ultimo anno mi sono trovato malissimo perché ero bersagliato dalla tifoseria come se la colpa era solo di Castaldo che Benevento non avesse raggiunto la promozione però fa parte del calcio l'importante è che io preferisco essere giudicato come calciatore ma non come uomo come calciatore ci può stare E siamo all'Avellino presentazione con Raffaele Biancolino poi lo vediamo più avanti sarà ancora la tua storia e sappiamo il perché quando hai saputo che saresti diventato un calciatore dell'US Avellino? Ma c'è stata una trattativa con Emanuele Catania mio ex compagno alla Nocerina e ci siamo sentiti lui mi aveva detto che c'era possibilità aveva parlato col direttore De Vito volevano fare questa trattativa e io ero ancora sotto contratto con la Nocerino e avevo ancora un altro anno di contratto e avevo detto che si poteva assolutamente parlare e poi la cosa decisiva è stata è stata sentire Felice Vacuo perché si ha ancora oggi tanti amici lui mi diceva la piazza campana più bella è l'Avellino lui mi diceva se c'è possibilità vacci perché è una tifoseria veramente da Serie A e quindi non ci ho pensato due volte appena il direttore mi ha chiamato ho chiamato il procuratore insieme abbiamo fatto questo incontro e poi in due giorni si è subito deciso tutto Raffaele Biancorino ora di questo Avellino fa il dirigente e quest'estate il tuo procuratore Ernesto De Notaris ha detto Gigi ha rifiutato l'ultima possibilità importante di andare a monetizzare con un contratto triennale perché di questo Avellino vuole fare il dirigente una volta che avrà finito di giocare a pallone in che ruolo ti immagini nel tuo futuro da dirigente dell'Avellino che è il tuo obiettivo ma no ti dico la verità questa è una cosa che poi ho feci una battuta col procuratore perché non ci penso assolutamente ho ancora tanta voglia di giocare che non mi civita ancora lontano dal campo quindi sono concentrato a fare quello che per adesso so fare meglio e poi vedremo a fine carriera ma ti ripeto sto bene fisicamente ho ancora tanto da giocare poi per il futuro ci sarà tempo insomma sarebbe un peccato dietro una scrivania visto che quello che fai in campo concordo con te pienamente continuo a giocare che è meglio senti a quale allenatore senti di dovere tanto? ma tanti allenatori ma in primis voglio ringraziare Ezzolino Capuano perché è stato il mio primo allenatore io venivo da un settore giovanile quindi sapevo ben poco a livello tattico e e tutto lui mi ha dato veramente tanto e poi ha avuto la personalità di mettermi in campo a 17 anni quindi sono migliorato tantissimo sotto sotto il suo lavoro cosa vuol dire essere il 10 di una squadra di calcio? ma è un numero che ti dà responsabilità quello sicuramente io l'anno che abbiamo vinto il campionato in C qua Biancolino ci teneva ad avere il 9 io assolutamente aveva consentito questa cosa perché lui ha sempre giocato col 9 io in C giocavo a volte con l'11 con il 10 ho detto tranquillo Raffa prendi il 9 io prenderò il 10 magari il 10 lo prende il trequartista lo prende una mezza punta io ho avuto subito piacere di indossare un numero importante è un numero che sicuramente dà responsabilità Cito dedicato a tutti i lupi nel mondo 57 volte grazie questa è la maglia che hai scelto a Verona per festeggiare il tetto raggiunto del record miglior marcatore almeno nella storia recente per quanto riguarda i gol nell'Avellino che cosa vuol dire per te questo record che poi hai anche abbondantemente battuto e superato e soprattutto facciamo un podio dei tuoi tre gol più belli dimmi i tuoi che poi ti dica i miei ma per quanto riguarda il record io ci pensavo dal dal ritiro perché comunque è un obiettivo importante anche se io guardo sempre gli obiettivi collettivi e non personale però questo è un obiettivo che ci tenevo a raggiungere lo condivido insieme alla squadra insieme alla società perché anche grazie a loro si è raggiunto questo obiettivo poi per quanto riguarda i gol di Bellini ho fatti ad Avellino e ricordo con piacere quello di Gubbio quello di Terni e vabbè non mi viene ma i primi due sicuramente Gubbio perché era il 3-2 era quasi un gol vittore a campionato è stato anche molto difficile prendere la porta è quello di Terni perché poi la rovesciata si sa è il gol che tutti i calciatori sognano allora hai preso i primi due anche della mia classifica tra l'altro Gubbio psicodramma perché mentre facevi quella girata al volo andò via il segnale della televisione per chi era a casa si ritrova con te soltanto ma si erano persi il meglio io direi anche quello col frosinone il tuo destro dai 30 metri bellissimo scavalcare il portiere avversario adesso cambiamo argomento perché i tifosi qui ti adorano nettamente non ci sono dubbi però non sono mancati i momenti di tensione Avellino Pescara è stata per te sempre una partita per certi versi particolari allora 3 maggio 2015 gol e lacrime dopo tanta tensione accumulate in settimana 8 aprile 2016 le mani alle orecchie rivolte in segno di sfogo perché avevi anche lì accumulato tanto stress hai sempre lanciato un messaggio che a me è piaciuto profondamente ovvero giudicatemi come calciatore ma non giudicatemi come uomo Ma è vero quello è il mio motto sicuramente ho mancato di rispetto alla tifoseria ma sicuramente non ho mancato di rispetto alla tifoseria sana perché in quella settimana come hai detto c'era stata un po' di tensioni io ripeto amo essere giudicato come calciatore ma non come persona in quella settimana fui un po' criticato come persona questa cosa me la sopportata un po' dietro fino alla partita e poi c'è stato uno sfogo ma sicuramente verso le persone che hanno criticato il Castaldo Uomo e non il Castaldo Calciatore però è un gesto che sicuramente non rifarei E a proposito di periodi duri 27 luglio 2015 squalifica per 4 mesi per alcuni pagamenti nero ai tempi della Nocerina come hai vissuto quei giorni interminabili immagino che per te che vivi di panna e calcio sia stato davvero difficile stare fuori dal rettangolo di gioco Sì è stata veramente dura poi voglio ringraziare Tesser perché è stato uno dei tanti che mi è stato veramente vicino io facevo solo allenamenti ed è stata veramente dura stare fuori dal campo non poter dare una mano alla squadra però ringrazio la società i tifosi perché ricordo tutti i messaggi che tengo ancora conservati i messaggi di stima di vicinanza più che altro però è stato veramente un periodo brutto però ripeto nei periodi brutti si vedono credo gli uomini e i calciatori io non ho mai mollato e mi sono allenato sempre sempre con grande professionalità non vedevo l'ora che passassero questi quattro mesi l'importante è che tutto è alle spalle e poi a proposito di cose alle spalle il processo per la presunta messa denuncia delle presunte combine di Avellino Modena di Modena Avellino anzi e di Avellino Regina del maggio 2014 il 12 aprile 2017 hai urlato attraverso Instagram mercenario venduto lo dico a gran voce assolto altri mesi durissimi per te che hanno influito inevitabilmente su quella che poi è stata la tua stagione quella scorsa sì questa qui è stata la cosa più pesante perché adesso lo posso dire io parlai con la mia famiglia dissi che se sarebbe arrivata un'ulteriore squalifica avrei deciso di smettere perché mi sembrava veramente assurdo sentire tantissime cose e poi quando l'avvocato una sera mi chiamò mi disse G sei fuori da tutto adesso puoi festeggiare non ho niente da festeggiare perché ho sempre avuto la coscienza a posto mi è venuto da piangere ma più guardando la mia famiglia che per me perché io sapevo di aver dato sempre tutto e di essere stato sempre rispettoso in tutto quello che ho fatto quindi sarebbe stata veramente una mazzata dura da digerire nei momenti difficili ma anche nei momenti di gioia hai sempre dato un'immagine di te molto legato alla tua famiglia gol è subito a mostrare le foto di Aurora e Morena e poi sui parastinchi i loro nomi parlaci della tua famiglia ma credo che tutto il mio successo va in gran parte in merito a loro perché mi danno serenità mi fanno stare bene ho una famiglia veramente bella e quindi ringrazio loro ogni gol che faccio il mio primo pensiero va a loro ai bimbi e a mia moglie perché comunque mi sono vicini mi sono stati vicini anche nei momenti difficili che arriveranno ancora quindi posso solo ringraziare quindi il merito che Gigi a 35 anni continua ancora a correre a fare il professionista il gran merito a loro allora andiamo definitivamente combattendo con una mosca che ci sta dando il tormento davvero la sfera tua più intima e più allegra no ho visto su Instagram che la Playstation ti piace solo Crash Bandicot o anche PES FIFA come giochi che prediligi e videogiochi a parte come passi il tuo tempo libero no solo Crash basta calcio a casa anche perché mia moglie già sopporta tanto no il tempo lo passo con la mia famiglia con le bimbe a giocare con loro e quindi appena finisco l'allenamento torno a casa e dedico il tempo solo a loro quindi diciamo così volendoci fare una risata insomma dopo tutto questo interesse invece rompere le scatole come Crash bravo e invece col tuo amico Zito vi siete separati sponde opposte fieri rivali riuscite a passare un po' di tempo insieme ancora sì immagino sì 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 siamo separati calcisticamente ma alla fine c'è sempre un gran rispetto è un ragazzo positivo anche lui mi ha aiutato tanto nei momenti difficili e quindi ringrazio anche lui è normale che poi lui ha deciso di vestire un'altra maglia quindi in campo saremo sempre nemici ma fuori dal campo saremo sempre nemici allora primo tatuaggio qual è stato per chi hai scelto di tatuarti e cosa rappresentano i tatuaggi se vuoi dirlo ovviamente ma il tatuaggio è il nome di mia figlia appena appena nata ma rappresenta una moda più che altro avevo promesso a mia moglie di poterne fare uno invece è diventata una malattia più ne fai più ne vuoi quindi adesso mi tocca fare l'altro l'altro nome per l'altra bimba che è Aurora e a presto dovrò dedicargli questo tatuaggio o trovare un corpo nuovo tra l'altro perché è quasi finito lo spazio senti ti volevo chiedere lo scherzo più cattivo che hai fatto ad un compagno di squadra in ritiro oppure nella spogliatoia uno scherzo più cattivo l'abbiamo fatto quest'anno no l'anno scorso io e D'Angelo abbiamo preso la chiave di di camera di Ardemani e ci si hanno ascosti nell'armadio ha rischiato veramente di ha rischiato veramente un infarto mi sa che D'Angelo ci ha ancora conservato il video è stato veramente un scherzo brutto però simpaticissimo lui voleva voleva morire dopo tratteremo per avere le immagini faremo un'offerta a cui non potrai rinunciare come si suol dire sei una buona forchetta che ti piace mangiare Gigi? si mangio un po' di tutto ma la pasta è quella che che mangio di più i carboidrati anche per il lavoro che facciamo sono molto importanti quindi la pasta la mangio volentieri il tuo rapporto con la fede Gigi credi in Dio? si tanto tanto bisogna credere perché mi sono successe delle cose anche l'incidente che ho avuto mi sono stretto un po' alla fede credo tanto ma sia io che la mia famiglia siamo molto molto credenti sto cercando del ferro qui intorno vicino alla banchina perché la domanda di rito finale della nostra rubrica nella Tana con i Lupi è una promessa se l'Avellino va in Serie A poi se vuoi ti illustro quello che hanno fatto i tuoi compagni di squadra Ardemagno ovviamente è quello sempre più esagerato però facciamola poi raccogliamo tutto in caso e ve le facciamo mantenere a raffica ma una promessa sicuramente qualcosa per l'Avellino dovrò fare magari un lupo tatuato con la non sarebbe mai va bene questa era la nostra ultima domanda ringraziamo Gigi Castaldo grazie a voi gentilissimo disponibile ci ha aperto davvero le porte della sua vita è tutto dal Partegno Lombardi buon proseguimento con la nostra programmazione grazie a tutti grazie a tutti